Il Kaabar è un iconico coltello da combattimento che è diventato famoso durante la Seconda Guerra Mondiale. Prima dello sviluppo del Kaabar, l'esercito degli Stati Uniti utilizzava diversi coltelli da combattimento, molti dei quali presentavano problemi di durata e prestazioni in situazioni di combattimento. Il coltello fu progettato per essere più resistente e versatile dei suoi predecessori, con una lama in acciaio al carbonio di 17,8 cm e un manico in pelle. La lama aveva una punta rinforzata e un bordo parzialmente seghettato per migliorare il taglio e la perforazione. Il coltello veniva spesso utilizzato per aprire le lattine di lazioni, tagliare le corde e svolgere altri lavori di routine sul campo di battaglia. Il Kaabar, tuttavia, era anche un'arma efficace per il combattimento corpo a corpo e per la difesa personale, soprattutto in situazioni in cui le armi da fuoco non erano convenienti o disponibili.